Dopo la vittoria della Champions League, la sua terza in carriera e il secondo triplete ed è questo un record, Pep Guardiola ha deciso di rinunciare ai suoi 900.000 euro di bonus personali per la vittoria del titolo destinandoli integralmente ai dipendenti del Manchester City. Si parla di Guardiola a cuore d'oro ed in effetti la notizia viene fuori proprio per enfatizzare evidentemente il comportamento dell'allenatore catalano. Non si sa se ha avuto piacere a che la cosa venisse fuori, è un'indiscrezione tirata fuori dal Daily Mail, ma pare che Guardiola avesse già fatto questa scelta anche in passato per quanto riguarda i premi per i trofei e i premi stagionali del Bayern Monaco e del Barcellona. Un gesto sicuramente singolare, quasi unico, chi rinuncerebbe per quanto ricco a quasi un milione di euro assolutamente meritati per aver raggiunto un obiettivo. Forse chi ha la sensibilità e la percezione di non avere sempre e solo tutti i meriti per sé, ma di dover rendere grazie, di dover ringraziare e riconoscere anche i meriti ad altri, e in questo caso tutti quei dipendenti del club che permettono a Guardiola di dare il meglio e di lavorare serenamente raggiungendo gli obiettivi. Questione di categorie evidentemente, anche tra gli allenatori, perché mentre Guardiola rinuncia tranquillamente a quasi un milione di euro, dandoli a chi secondo lui li merita di più, li ha meritati di più per ringraziarli, c'è chi non rinuncia a un euro del proprio contratto e ci sono anche quei tifosi che dicono che fa bene quell'allenatore a non rinunciare a un euro del proprio contratto e a non dimettersi perché ehi, sono un sacco di soldi, chi rinuncerebbe mai? Io non lo farei. E allora evidentemente Guardiola deve essere un pazzo a rinunciarci, visto che questi bravi tifosi sono sicuri, ma proprio sicuri sicuri, che nessuno rinuncerebbe mai. Intanto, restando in tema Manchester City, Enzo Mariesca, vecchia conoscenza juventina, che ha già lavorato, aveva già lavorato nella stagione 20-21 al Manchester City come allenatore della Under-23, della squadra giovanile, passando poi per 14 partite al Parma per poi tornare al Manchester City nell'estate 2022, quindi in questa stagione 22-23 come vice allenatore di Pep Guardiola, andrà ad allenare il Leicester come primo allenatore, non più in Premier, perché il Leicester è retrocesso in Championship, ma con un'esperienza che sarà probabilmente di consacrazione per il tecnico. Mariesca ha voluto prendere quindi la sua strada per andare anche a dimostrare quello che sa fare, ecco, un altro pazzo evidentemente, chissà se viene pagato di più dal Leicester in Championship come primo allenatore o al Manchester City in Premier e in Champions come secondo allenatore, fatto sta che Mariesca ha deciso di mettersi in proprio, ritenendosi capace di allenare, come ha già fatto tra l'altro, una prima squadra anche con ambizioni importanti. E chissà che Mariesca in breve non entri nel novero degli allenatori più interessanti d'Europa, come Arteta che arrivava proprio all'Arsenal da vice di Guardiola e si vede quello che è riuscito a fare. Anche qui forse ci sono le categorie, ci sono dei vice che passano perché fanno i vice per imparare e mettersi in proprio e dei vice che restano per un decennio sempre gli stessi, sempre dietro lo stesso allenatore e non si scollano mai. E in generale nel calcio e nello sport in generale il coraggio è uno dei valori fondanti. Se non hai coraggio, se non vuoi metterti in gioco forse non hai neanche dignità e forse non meriti neanche quello che hai. Quindi complimenti a Guardiola e complimenti a Mariesca, meno complimenti a qualcun altro. Grazie a tutti.